ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table oggi risponderemo alla domanda a che gioco stiamo giocando ancora una volta con un gioco che vi avevo annunciato nella scorsa anzi nella penultima edizione del tg table un gioco che è arrivato precisamente il day one dagli amici di irtemis e che loro mi hanno conservato perché come ben sapete eravamo tutti al comic con sto parlando del piccolo ma interessantissimo barrio un gioco davvero molto interessante che in una scatoletta piccolissima è un concentrato di game design ma banda le ciance sediamoci attorno al tavolo e scopriamo barrio cominciamo al setup dalle carte casa che sono quelle che hanno il dorso blu che riporta una casa e che anche sul fronte hanno ovviamente una casa mescoliamo questo mazzo di carte e diamo cinque di queste carte a ogni giocatore seduto attorno al tavolo in questa fase tutti i giocatori dovranno scegliere quali carte casa conservare e quali rimettere nel mazzo di pesca in questo caso prendo queste tre diciamo come dicevo queste vanno nel mazzo a questo punto rimescoliamo tutte le carte e posizioniamo le sul tavolo e andiamo a riposizionarle sul tavolo a scoprire le prime quattro carte questo da questo momento sarà definito il mercato delle case lasciamo anche un piccolo spazio per gli scarti prendiamo le carte materiali che andranno ovviamente mescolate e a questo punto distribuiremo tante carte materiali ai giocatori seduti a round table fino a quando loro non avranno una mano di cinque carte totali quindi le carte casa più le carte materiali a un giocatore andranno quindi tre carte e all'altro giocatore mi pare due le carte materiali andranno anche loro posizionate sul tavolo e verranno scoperte le prime quattro carte materiali se come in questo caso ci fossero più di una carta che riporta un foglio stropicciato dovremmo prendere tutte queste carte scartarle e ricominciare anche se ci fossero quattro materiali identici dovremmo fare la stessa operazione lo spazio al centro del tavolo sarà il mercato comune in cui dovremmo creare una fila cinque per cinque di materiali scegliamo una delle carte punteggio che sono le carte che ci diranno come faremo punti o li perderemo grazie fogli stropicciati e quanti punti perderemo grazie dei triti che avremo generato nelle prime partite è consigliabile ad operare quella segnata con la a mettiamola sul tavolo in un luogo facilmente raggiungibile da tutti i giocatori le carte punteggio sull'altro lato riportano una quick reference quindi diamola una a ogni giocatore seduto a round table selezioniamo il primo giocatore e diamogli la carta primo giocatore di soldo questa fase molti giocatori la saltano però è importante perché alla fine della partita ogni giocatore dovrà aver svolto lo stesso numero di turni quindi è indispensabile darla sembra proprio che siamo pronti per giocare barrio un gioco che si può fare in solitario fino a quattro giocatori in cui competeremo con tutti gli altri giocatori seduti a round table per creare il panorama di case più bello del nostro quartiere o barrio per costruire le case dovremmo adoperare i materiali che abbiamo posizionato assieme agli altri giocatori nel mercato comune sperando quindi di non favorire troppo o che non rubino i nostri materiali dovremmo fare attenzione anche ai fogli che abbiamo stracciato perché in alcune partite ci potranno dare dei punti ma in altre no altra cosa su cui porre l'attenzione sono i detriti perché in edilizia troppi detriti non fanno mai bene dovremo quindi ottenere il maggior numero di punti dalle nostre costruzioni sperando di essere gli architetti più bravi del nostro barrio ma vediamo nello specifico come si gioca barrio durante il proprio turno ogni giocatore potrà svolgere una tra quattro azioni pescare una carta casa o materiale scartare uno più carte casa dalla propria mano mettere una carta materiale nel magazzino comune mettere due carte materiali nel magazzino comune ma andiamo a vederla simulando un turno se decidessimo di pescare una carta casa o materiale potremmo scegliere indipendentemente o le carte scoperte o quella sulla cima del mazzo quando decidiamo di scartare le carte casa che abbiamo nella nostra mano sceglieremo le carte casa che vogliamo scartare diciamo due queste e le andremo a posizionare accanto al mazzo di pesca formando una pila degli scarti a questo punto potremo prendere tante carte casa o materiali quante carte casa abbiamo scartato potremo anche decidere di prendere sia carte casa che carta materiale e mescolare come sempre potremmo prendere dalla cima del mazzo o tra le carte scoperte ma non è questo il caso se scegliessimo di posizionare una carta materiale al centro del tavolo ovvero nel mercato comune all'inizio della partita semplicemente sceglieremo una delle carte materiali che abbiamo in mano fatemela scegliere attentamente diciamo che voglio mettere questa al centro del mercato nel mercato comune la piazzerò dove voglio nel mercato comune e a questo punto potrò prendere due carte casa o materiali casa e materiali dalla cima del mazzo o tra quelle scoperte in questo caso io voglio fare proprio questa azione e decido di prendere queste due carte il refill delle carte materiale verrà fatto solo alla fine del turno con la quarta ed ultima azione possiamo andare a mettere nel mercato centrale due carte per recuperarne tre o costruire una casa ma andiamo a vederla con calma allora io decido di piazzare questa carta quando nel mercato comune è già presente un'altra carta le carte che andiamo ad aggiungere dovranno essere posizionate ortogonalmente adiacenti a quelle già posizionate quindi a destra a sinistra sopra o sotto non in obliquo in questo modo è questa a questo punto io posso ottenere tre carte come sempre materiali case coperte o scoperte e andiamo a vedere quelle che mi serviranno il limite di carte che possiamo avere in mano è sette se pescando carte superassimo questo limite ovviamente quelle che sono in eccesso non le andremo a prendere mentre invece se in un turno finiamo con meno di tre carte in mano dovremo prendere tante carte fino a raggiungere il numero di tre quando andiamo a posizionare le carte nel mercato comune dovremo creare una griglia 5x5 alla fine del nostro turno non potranno mai esserci carte che superano questo limite ho detto alla fine del turno perché nel caso in cui noi avessimo piazzato due carte in una fila non è questo il caso e ci trovassimo a superare questo limite ma potessimo costruire una casa potremmo creare una riga o una colonna di più di 5 elementi di 5 elementi di 6 quando possiamo costruire una casa quando abbiamo tutti i materiali richiesti sul lato della casa presenti in una riga o in una colonna in questo caso per costruire questa casa abbiamo bisogno di due pietre un mattone e un legno due pietre un mattone e un legno quando decidiamo di costruire dovremmo prendere la carta che abbiamo deciso di costruire posizionarla nella nostra area di gioco recuperare tutte le carte dalla colonna dalla riga in questo caso scartare quelle che ci sono servite per costruire la nostra casa quelle che ci sono servite per costruire la casa andranno nella pila degli scarti dei materiali mentre quelle che sono avanzate andranno a creare una pila di scarti personali con i detriti che piazzeremo qui in questo caso il secondo giocatore ha solo due carte e dovrà decidere se prendere carte materiali o carte case alcune carte materiali sono divise a metà quando decidiamo di costruire dovremo decidere se adoperare la parte superiore o quella inferiore posso costruire anche questa casa quindi come prima scarterò i materiali che mi sono serviti per costruire la casa metterò questa nella mia pila degli scarti con i detriti tantissimi detriti un vero e proprio guaio però a questo punto vi farò vedere un'altra cosa importante di barrio nella parte inferiore delle carte casa sono presenti dei simbolini dei diamanti due puntini quando li troviamo possiamo creare un panorama unico quindi appoggiare le carte l'una accanto all'altra per andare a creare un panorama anche le carte singole rappresentano un panorama ma quelle ci faranno ottenere meno punti alla fine della partita quando infatti riusciremo a creare panorami unici lunghi otterremo più punti potrebbe capitare di aver costruito ad esempio anche questa casa in precedenza e poi questa in questo caso potremmo riunire i panorami in un panorama unico e alla fine della partita ottenere più punti i punti che ci faranno ottenere i panorami più grandi alla fine della partita li troveremo nella carta di quick reference nel momento in cui ci trovassimo con il mercato comune in cui è presente uno spazio vuoto in seguito alla costruzione di una casa non dovremmo far altro che compattare questi spazi se posizionando una o due carte nel mercato comune avessimo completamente riempito la griglia 5x5 avremmo la possibilità di costruire gratuitamente una casa le carte foglio stropicciato sono considerate come un qualsiasi altro materiale quindi lo potremo mettere tranquillamente nel mercato comune può anche per dare fastidio ai nostri avversari e o conservarle nella nostra mano a seconda di come è più comodo seguendo la carta dei punti posso costruire anche questa casa le carte casa sono contraddistinte da un simbolo un fiore una luna o una stella quando completiamo un panorama che riporti o sempre lo stesso simbolo o tre simboli differenti potremmo costruire gratuitamente una casa in modo da continuare il panorama che stiamo costruendo ma purtroppo il nostro giocatore non ha più carte casa ovviamente questa cosa si può fare una sola volta a partita la partita andrà avanti così non appena uno dei giocatori seduti a round table non avrà costruito la settima casa in due giocatori la sesta casa in tre giocatori e sempre la sesta casa in quattro giocatori a questo punto tutti i giocatori si assicureranno di aver svolto lo stesso numero di turni e passeremo a calcolare il puntiggio se nell'ultimo turno fossimo riusciti a costruire un'ulteriore casa rispetto alle sette in due giocatori o alle sei in tre quattro giocatori non ci sarebbe alcun problema e potremmo semplicemente proseguire calcolando il puntiggio dovremmo innanzitutto sommare il valore delle nostre case che questo numero riportato qui è al centro della barra nera a questo punto andremo a calcolare il valore dei nostri panorami quindi un panorama di un solo di una sola casa vale 0 1 di 2 case vale 3 1 con 3 case vale 4 1 con 4 case vale 6 1 con 5 case vale 9 1 con 6 case vale 12 1 con 7 case vale 16 1 con 8 case vale 21 andremo ad aggiungere punti delle carte punteggio quindi andremo ad aggiungere i punti per i fogli stropicciati che possediamo e dovremmo decurtare i punti per ogni detrito che abbiamo generato ovviamente il giocatore che avrà raggiunto il maggiore numero dei punti potrà festeggiare perché avrà creato il barrio più bello around the table e questo era barrio come avete visto il gioco effettivamente molto semplice e come vi dicevo nell'intro è letteralmente un concentrato di game design in questa piccola scatoletta troviamo fondamentalmente due mazzi di carte dalle grafiche meravigliose ma non è questo il punto il punto è che qui dentro troviamo un gioco estremamente interessante ma andiamo con ordine nel nostro turno abbiamo una sola azione a disposizione tra quattro prendere una carta scartare le carte per prenderne altre posizionare nel mercato comune una carta e prenderne altre due posizionare nel mercato comune due carte per prendere tre carte o poter costruire e il gioco è tutto qui perché se vogliamo costruire non potremmo adoperare le carte che abbiamo in mano bensì le carte che sono nel mercato comune se dobbiamo prendere molte carte almeno due o tre dovremmo mettere altre carte nel mercato comune mercato comune che servirà per l'appunto a tutti i giocatori seduti around the table per costruire una cosa veramente geniale perché ogni turno dovremmo star bene attenti a come muoverci dovremmo avere sempre il polso della situazione è anche sempre il polso di quello che stanno facendo gli altri però questo gioco ci dà anche la possibilità di tentare di spessare il gioco degli altri giocatori ed è questa la cosa geniale perché ogni volta noi potremmo caricare le righe o le file che ci serviranno per costruire le nostre case di materiali magari inutili magari potremmo decidere di adoperare il foglio stropicciato rinunciando a dei punti per farlo diventare dei detriti che saranno dei punti malus agli altri giocatori a seconda ovviamente della carta della carta punteggio che abbiamo preso una cosa veramente geniale e a ogni turno quindi dovremmo decidere come muoverci ma senza mai dimenticare che dobbiamo costruire quindi dovremmo mettere carte lì dovremmo mettere carte nel mercato buone per prenderne altre e questo genera attorno al tavolo tantissimo da pensare è un gioco che mi è piaciuto tantissimo oltre perché si possono fare tantissimi sgambetti si possono rubare costruzioni si può fare veramente tanto ma proprio perché è pensato veramente in maniera geniale inoltre super portatile super compatto ma come avete visto sul tavolo occupa un bel po di spazio l'altra cosa interessante sono ovviamente i panorami quindi la possibilità di costruire delle unità abitative una vicino all'altra grazie simboletti presenti sulle carte questo è un ulteriore elemento di game design che direttamente nel design della carta genera altra possibilità strategica altre possibilità di fare punti io credo che org tabernera redondo abbia creato un gioco che veramente una piccola grande gemma in uno spazio piccolissimo voi vi porterete dietro sempre un gioco che vi permetterà di esprimere ogni volta una strategia diversa e che ogni volta vi darà delle soddisfazioni incredibili around the table ma a questo punto mi interessa sapere da voi cosa ne pensate di barrio e del lavoro di org tabernera redondo se l'avete provato quali sono le vostre sensazioni come vi muovete nel mercato centrale scrivetemi tutto quello che pensate qui in un commento su youtube ma anche su facebook instagram tumblr twitter e tik tok a questo punto non resta altro che salutarci per ritrovarci sempre qui sempre nel barrio arando teboli ciao a tutti